ma che cos'è questo posto questa è una specie di pompei del novecento i San Pietresi furono colti in questa morsa tra due eserciti belligeranti e decisi a non mollare un metro di terreno avevano capito che dovevano stare sottoterra perché eventualmente le bombe d'aereo avevano capito che non potevano stare diciamo di fronte all'attacco dell'artiglieria alleata e quindi capirono che proprio qua in questo vallone che è protetto in pratica dal paese stesso dall'altura del paese stesso e allora scavarono sia a destra che a sinistra per ricollegarsi con le altre sacche, le altre cave io non riesco nemmeno a immaginare che cosa sia successo qui quindi se noi avessimo potuto in quei giorni stare qui avremmo visto veramente l'inferno ha detto questa donna dite a mio marito che io so vivo ancora non potevamo più uscire perché le cari non avevano una continuazione, non c'era interruzione ma 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 Grazie a tutti.